Quando c'è una diagnosi di infertilità la coppia subisce un gravissimo colpo. Noi parliamo proprio di crisi dell'infertilità di coppia, proprio perché non tutte le persone reagiscono intanto al dolore nello stesso modo. Quindi alcuni si chiudono fortemente in se stessi e quindi possono aumentare i problemi di comunicazione, i problemi sessuologici, mentre altre coppie invece fortunatamente da questa diagnosi così negativa riescono ad avvicinarsi, ad essere veramente un sostegno l'uno per l'altro. Quindi a seconda dei casi la coppia può avere delle problematiche che possono essere comunicative, sessuologiche e quant'altro. Per questo è necessario tenere sotto controllo, se possibile da un punto di vista psicologico, le dinamiche relazionali.